Nella nostra visione la tecnologia rappresenta un elemento abilitante, cioè quella componente sulla quale si possono poi costruire i servizi e i prodotti per la clientela. In questo senso consentire più possibilità di contatto tra il cliente e la banca attraverso la relazione fisica della tradizionale filiale che per noi banca del territorio è importante, ma anche attraverso i canali di contatto telematici consente di giostrare a seconda delle esigenze del cliente il miglior mix tra il contatto diretto, il contatto totalmente self o una combinazione dei due. Abbiamo recentemente sviluppato una soluzione denominata stanza di firma che consente alla banca di predisporre e preparare documentazione contrattuale per la clientela che può essere illustrata dallo specialista e successivamente in modalità asincrona verificata, valutata e sottoscritta dal cliente. Questo consente allo specialista di impegnare il suo tempo solo nella parte a maggior valore aggiunto della relazione, quindi l'illustrazione della proposta per esempio di consulenza finanziaria, lasciando poi l'operatività marginale di sottoscrizione al cliente self. In questo modo possiamo ottimizzare il tempo dello specialista e dall'altra parte tramite le piattaforme e le tecnologie raggiungere una platea sempre più ampia. In questo modo soprattutto le proposte commerciali a maggior valore aggiunto possono essere massimamente diffuse.